Ben ritrovati ragazzi, come state? Un saluto a tutti, vi invito a lasciare un bel like qui sotto e a scrivervi qui in questa zona. Commentiamo un'indiscrezione che definirei bomba, che arriva dalla Gazzetta dello Sport, da prendere con le pinze, è giusto citare insomma chi l'ha riportata. Parliamo di un giocatore molto forte, che al Milan piace da sempre e che, cosa che magari non interesserai più, ha sottoscritto piace tantissimo, barra fa impazzire. Secondo la Gazzetta dello Sport, Luis Alberto è di nuovo in rotta con la Lazio, non è contento dello scarso impiego che gli è stato riservato fin qui. Lui ha giocato il 42% dei minuti, quindi ha giocato meno della metà delle partite della sua Lazio, tra l'altro poche volte da titolare, spesso subentrante, perché nelle dieci partite lui è stato soltanto tre volte titolare. Situazione che non gli piace, con Sarri non è esattamente sbocciato poi l'amore, anche se la stagione in termini numerici è molto buona, perché ha fatto dieci presenze e tre gol in campionato, quattro presenze e un gol in Europa League con anche un assist. a 30 anni, fatti un mesetto fa, contratto in scadenza nel 2025. Ebbene, secondo la Gazzetta, lui vorrebbe cambiare aria e il Milan monitora con attenzione la situazione e le evoluzioni sul suo futuro. Sapete che in estate lui voleva tornare a Siviglia, ma non se ne è fatto nulla. Ora vediamo, secondo la Gazzetta il Milan potrebbe riproporsi all'orizzonte dopo i tentativi degli scorsi anni andati, come sappiamo, a vuoto. Per quanto mi riguarda, noto due complicazioni. La prima è l'età, perché è un giocatore di 30 anni. La seconda, la scadenza non è neanche imminente, 2025. Vero è che se Lutito vuole monetizzare rispetto a un giocatore scontento, lo deve fare al più presto, altrimenti poi va a perdere un giocatore che potrebbe portare anche una somma nelle casse. Sappiamo quanto Lutito sia molto legato al fattore economico. Dall'altra parte, lui è un centrocampista offensivo trequartista. Se ti porta a casa a Luis Alberto, devi poi specializzare sulla destra de Ketelare. Altrimenti, insomma, il ruolo, la posizione meglio è quella. Luis Alberto è un signor giocatore, probabilmente per le caratteristiche del gioco di Pioli sarebbe il perfetto trequartista, ma il Milan è investito tanto su de Ketelare, quindi per questo mi sembra ulteriormente complicato. Riportiamo però l'indiscrezione clamorosa della Gazzetta dello Sport e vediamo quali evoluzioni avrà il futuro di Luis Alberto. Non contento la Lazio. Per me è un giocatore top. Mi è sempre piaciuto. Vediamo, le trattative poi con lo titolo non sono mai facili. Vi riporto l'indiscrezione, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi qui, lasciate un like. Numerosissimi, mi raccomando. A presto, a dopo, alla prossima. Ciao! 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 Ciao!